Ciao mister, Massimo Canta di Carta Canta. Tu hai avuto nella tua carriera di giocatore dei compagni di livello massimo che hanno fatto della cattiveria, della determinazione, delle loro caratteristiche. Ecco, come si allenano queste doti in una neopromossa? Ma io penso che sicuramente non è soltanto un aspetto caratteriale di cattiveria ma è anche nella consapevolezza nel fare le cose. Ho detto che i giocatori che sono arrivati alzano il livello. Io penso che questi giocatori ci possano dare o possono dare la possibilità a chi c'era di aumentare questa consapevolezza e questa autostima. Quindi tutto arriva da lì. La cattiveria nel fare le cose è imprescindibile. Imprescindibile non solo per chi deve difendersi e deve salvarsi ma anche per chi vuole vincere. Quindi se l'anno scorso, se la stagione scorsa noi siamo riusciti anche a portare a casa perché a livello caratteriale abbiamo fatto un salto di qualità. Sicuramente la categoria che stiamo facendo non è semplice e quindi se non metti in campo, siccome a livello tecnico magari ci sono delle partite dove non puoi compensare con cose tecniche, allora ci devi mettere qualcosa di più a livello caratteriale.